Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabris e quest'oggi voglio parlarvi di una notizia bomba, Assetto Corsa 2! E sì ragazzi, perché sapevamo che era già in fase di sviluppo, però non avevamo notizie, niente, dettagli, quando è che dovesse uscire, eccetera. Poi Digital Bros, che è la casa madre ormai della 505 Games e di Kunos Simulazioni, facendo un rapporto sul proprio sito ufficiale che vi invito ad andare a vedere, parla insomma degli investimenti che sono stati fatti, fa un resoconto insomma dell'anno passato e parla in questa slide di Assetto Corsa in particolare, perché ritiene che sia il simulatore più venduto al mondo, con un ricavo netto di 66 milioni di euro ragazzi, per 12 milioni di copie vendute, quindi un successo planetario per quanto riguarda questo simulatore, e dice che è grazie alla tecnologia che è stata utilizzata per appunto la realizzazione di questo Assetto Corsa 1. In particolare parla del laser scan per i circuiti. A parte questo, parla anche questo rapporto della collaborazione che è nata sempre con Kunos per quanto riguarda Assetto Corsa Competizione, e annuncia che stanno lavorando 24 ore su 24 per far uscire Assetto Corsa Mobile per quest'estate 2021, e quindi poi in fase di sviluppo Assetto Corsa 2 pianificato per il 2024 ragazzi. Eccola qua la notizia bomba ragazzi, perché lo sapevamo che doveva uscire, però non sapevamo assolutamente quando sarebbe stato pianificato. Non ci sono altri dettagli sul sito, non sappiamo se uscirà per console, non sappiamo le specifiche, i dettagli in genere del titolo, non sappiamo. Però intanto abbiamo una data ragazzi. Quindi, tanta carne al fuoco come al solito, sappiamo che a questo punto Kunos non si ferma insieme a Digital Bros 505 Games, ma io me lo immaginavo, quando una società viene riacquistata è perché vogliono investire e sviluppare delle novità. Quindi ragazzi, come al solito, spero che queste notizie vi piacciono, un pollice in su se vi va per questo video, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e prima di lasciarvi, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per i 45 minuti di Silverstone su Assetto Corsa Competizione organizzato da SimDrivers, siamo veramente entusiasti di questi for fun, dove ci sono veramente tantissimi iscritti, infatti correte perché veramente mancano pochi posti, abbiamo lanciato le iscrizioni poche ore fa, e stanno terminando, quindi non esitate a correre su www.simdrivers.eu per info e iscrizioni. Come al solito, vi ringrazio per avermi seguito, un abbraccio da Fabrice è tutto, ciao! Ciao!